Abbiamo chiesto ai commissari di mettersi completamente a disposizione, come loro dovere fare, della magistratura, delle autorità inquirenti per dare ogni utile informazione e per aiutare a fare chiarezza nei tempi più rapidi possibili. Tutte le responsabilità di chiunque fosse devono essere accertate e devono essere perseguite. Non si può morire per il lavoro e non si può morire a 25 anni. Il mio pensiero più profondo, insieme al Presidente del Consiglio con il quale siamo in contatto da questa mattina, che vuole essere informato costantemente, è quello di dare giustizia a questa persona e alla sua famiglia. Ho incontrato le organizzazioni sindacali, ho chiesto di incontrarli, quelli che sono riusciti a rintracciare stamattina, ho già incontrato CGL Cislewil, ho incontrato il sindaco, sono in attesa di avere una risposta dall'USB, se vorrà essere ascoltata, per fare con loro il punto della situazione, per ascoltare il loro punto di vista. E sulla base del confronto che abbiamo fatto, chiederò immediatamente ai commissari di programmare, in tempi rapidissimi, un incontro con i rappresentanti dei lavoratori per fare il punto su tutti gli interventi che attengono alla manutenzione straordinaria e ordinaria, perché anche questa fase di transizione dell'ILVA deve essere gestita in un rapporto costante con i lavoratori che stanno all'interno di quello stabilimento. Il governo, come sapete, è impegnato a portare avanti il progetto di rilancio dell'ILVA, di ambientalizzazione e di tutto quello che serve per garantire un ambiente di lavoro sicuro per i lavoratori e sicuro anche per i cittadini che stanno fuori dallo stabilimento. Le organizzazioni sindacali mi hanno rappresentato delle difficoltà, delle criticità e sulla base di quello che loro mi hanno rappresentato, io, come dicevo prima, chiedo ai commissari di mettere in campo rapidamente un incontro per accertare queste situazioni e per individuare le soluzioni, tenendo conto dell'opinione di tutti e cercando di trovare le soluzioni nel tempo più rapido possibile, perché laddove le soluzioni sono consentite dall'innovazione, dalla scienza, dalla tecnica, da una buona organizzazione del lavoro, non bisogna lasciare nulla per tralasciato.